Magari la mossa un po' più telefonata diciamo, questa volta, ecco entrata la civetta, è buona, è buona la civetta, è in palio, è partito, in testa la lupa, poi la selva, poi l'oca, la civetta, l'istrice, primo San Martino, primo San Martino fatto con la lupa in testa, lupa, selva, oca, lupa, selva, oca, al primo casato, al primo casato sta andando questa situazione ancora, lupa, selva, oca, civetta, poi la chiocciola, sono tutti lì, le distanze sono grandi, stava arrivando al secondo San Martino, siamo a metà a palio, ancora lupa, lupa, selva, oca, ma attenzione Montone, no, chiocciola, chiocciola, chiocciola che risale, chiocciola in terza posizione, lupa, selva, chiocciola, oca, tt a quinto, tt a quinto ancora, siamo vicini al terzo giro, Conte Gaia, terzo giro, quasi al terzo di San Martino, di nuovo lupa, 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 sulla selva, chiocciola terza, oca, quarta, ma ancora lupa, sembra un po' di margine, sembra un po' di margine, lupa, l'ultimo casato, l'ultimo casato da lupa, in testa, sulla selva, lupa, lupa, selva già in merdo, incredibile, incredibile, lupa, Dino Pes, su Benitos, incredibile, Dino Pes, il fantino che anziano in pista non aveva mai vinto, Il primo palio, ricordiamolo, oltre 40 anni, 9 pali corsi, l'ultimo palio corso nel 2 luglio 2017, non aveva più visto il tufo, non aveva più visto il tufo, Velluto, Dino Pes, lupa non aveva assolutamente i favori del pronostico, Benitos, Cavallo, esordiente, Non solo ha fatto perdere il palio all'istrice, ma ha vinto il palio, la lupa non vinceva dall'agosto del 2018, Benitos, esordiente, Grazie a tutti!